Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo sempre su Genshin Impact perché oggi, come ho fatto per la scorsa volta, voglio portarvi un contenuto dove vi faccio vedere quella che è la mia strategia per ottenere il massimo del risultato per quanto riguarda il nuovo livello di difficoltà, ovvero il nuovo moltiplicatore di difficoltà, con spero di farvi vedere anche il nuovo livello, proprio per fare due piccioni con una fava. Quindi moltiplicatore che adesso può raggiungere il 2.0, difficoltà numero 6, con obiettivi che sono praticamente identici a quelli della scorsa volta, quindi un massimo di 12 costruzioni senza far scappare nessun nemico. Il nuovo livello, che come potete vedere è questo, è abbastanza carino dal punto di vista strategico, non è difficilissimo da gestire, però giustamente ci sono dei piccoli accorgimenti che bisogna anche sottolineare. Specialmente dal fatto che è stato aggiunto un nuovo macchinario, chiamiamolo così, ovvero questo, l'Arcanum, che ci consente praticamente di potenziare le torrette con le quali entra in contatto. Quindi avere un piccolo raggio, per quanto riguarda ovviamente la copertura che possiamo effettuare con questo buffer, chiamiamolo così, che potenzia in maniera abbastanza prepotente, oserei dire, le torrette che gli affianchiamo vicino. Quindi andiamo a comporre il team, il team che ovviamente come sempre porto il team elementale, che mi serve giusto per avere una mano in più per quanto riguarda le reazioni e noi ci vediamo nel momento in cui caricherà il livello che mi serve. Eccoci qua con il livello nuovo, perfetto, così vi posso far vedere esattamente la mia strategia, che inizialmente si baserà sul torretta di fuoco e buffer dietro, e qui faremo la stessa identica cosa. Quindi anche qui metteremo una costruzione di fuoco e anche qui metteremo un buffer. Non so quanti punti mi avanzano, 290, per cui direi di mettere ghiaccio e poi 110 punti, quindi per il momento non si può fare nulla. Quindi cominciamo subito la wave, dato che i primi portali saranno soltanto da questo lato, quindi non avremo possibilità di fare altro. Quindi anche qua iniziamo a mettere subito ghiaccio, visto che abbiamo la possibilità. Qui elettrico, bene, così qua abbiamo già finito di costruire. E qui adesso che possiamo costruire piazziamo anche un altro elettrico. Basta. Queste sono già le prime costruzioni che dobbiamo utilizzare per il momento. Questo recovery 5 points sarebbe interessante. Questo poteva essere canino, ma non ho la possibilità. Ecco, creo meccanici, attack, speed, che come primo buff direi assolutamente comodo. Le wave di per sé non sono difficili, anche perché questa, praticamente questa postazione qui non l'andremo a toccare più. Dato che qua i nemici nel momento in cui sponeranno saranno già morti, l'unica che dovremmo tenere d'occhio nelle prime due wave sarà solamente questa. Ma per una questione di organizzazione, non tanto per una questione di difficoltà. Perché i mostri, dato che quando sponano restano fermi, praticamente per un secondo, hanno la possibilità di accumularsi. Questa possibilità di accumularsi purtroppo delle volte può essere un problema. Dall'altro lato non si accumulano perché nel momento in cui sponano già le nostre torrette attaccano. E quindi, stando fermi quel secondo, i nemici muoiono. Quindi quella è una zona che noi non presidieremo più. Questa invece potrebbe dare qualche complicazione. Perché i nemici possono accumularsi. E dato che le nostre torrette ancora non sono potenziate al massimo, potrebbero far scappare qualche soggetto. E' per questo che porto anche Mona, giusto per non utilizzare torrette acqua, perché sarà Mona la mia torretta acqua mobile, che mi consentirà di effettuare anche dei Frozen a comando, per impedire comunque i miei avversari di accumularsi. Nella terza wave in poi spunteranno anche là sotto i nemici. Si aprirà un portale anche là sotto, quindi inizieremo da questa fase a costruire anche nelle postazioni più in basso. Nel momento in cui nascono i nemici, noi con Mona facciamo un bel wet, in modo tale che abbiamo o Frozen, o Vaporize, o comunque Electro Conduct, o comunque, anzi scusatemi, Super Conduct, o comunque Electro Charged, per poter eliminare i nostri nemici. Vedete? Qui, praticamente nel momento in cui spawnano, sono già morti. Quindi non abbiamo assolutamente bisogno di presidiare questa zona. La zona da presidiare sarà questa. Sarà questa perché, come vi ho detto, i nemici hanno una piccola possibilità di potersi accumulare e quindi ci danno problemi. Ora qui cosa facciamo? Qui mettiamo un altro buffer al centro. Qui piazziamo una torretta di fuoco. Aspettiamo che passa la wave. Pyro meccanici. Ok, mettiamo questo, giusto per potenziare ancora di più i nostri attacchi pyro. E come potete vedere si è aperta anche il portale qui sotto, dove appunto abbiamo delle uscite diverse. Abbiamo le uscite di sotto, che dobbiamo adesso presidiare, più le due uscite di sopra. Non è un grosso problema. I buffer veramente rendono le nostre torrette decisamente offensive. Soprattutto se le abbiamo portate a un livello superiore. Quindi non è assolutamente un problema. Ecco, qui facciamo un bel, vedete, frozen a comando. Per impedire al nostro amichetto di passare. Che non riesce ovviamente a passare. E poi, come potete vedere, il resto praticamente non è assolutamente un problema. Da quel lato i mostri non riescono neanche a passare. E nel momento in cui abbiamo qualche punto in più, qua rifacciamo la stessa cosa. Ovvero crio ed elettrico. E abbiamo finito con le nostre dodici costruzioni. Una volta che abbiamo costruito il nostro presidio in questa maniera, non abbiamo più nulla di cui preoccuparci. Possiamo tranquillamente goderci la nostra run senza avere nessun problema. A dire il vero, una difficoltà magari aumentata me la sarei aspettato. Me lo sarei aspettato in realtà dal gioco magari di aumentare un po' la difficoltà. Però, giustamente, aumentando anche la potenza delle nostre torrette, un pochettino, il tutto va a sprecarsi. Perché non si ha una vera e propria difficoltà, in quanto le torrette veramente iniziano ad essere un qualcosa di pazzesco. Hydro Meccanici Speed, Pyro Meccanici Speed, anche se c'era Hydro Meccanici Elemental Mastery, ma noi non abbiamo torrette Hydro. Quindi potenziamo ancora di più la velocità dei nostri attacco Pyro. Detto questo, facciamo startare la nuova wave. Qui mettiamo Wet, giusto per permettere, vedete, a un Frozen a comando, praticamente, di salvaguardare il nostro accumulo di mostri. Perché qui effettivamente possono accumularsi, purtroppo. A differenza delle altre zone che, come vi ho detto prima, non hanno proprio la possibilità materiale di accumularsi. Qua, invece, sì. E quindi qua, effettivamente, un pochettino si rischia. O, per meglio dire, si potrebbe rischiare. Io, per sì e no, metto una Mona, giusto per farla come mia torretta acqua personalizzata. E poi, per il resto, come potete vedere, i nemici vengono sciolti ad una velocità pazzesca. Questa nuova torretta del buff mi piace tantissimo, perché rende veramente le torrette forti. Cioè, la differenza è abissale. Cioè, a meno da quello che mi ricordo dei danni, è veramente abissale la differenza dei danni. Guardate, il ghiaccio che addirittura fa 469 hit a colpo. Mentre prima ne faceva, mi ricordo che ne faceva tipo sulle 250, forse 300. Quindi 150 punti in più, senza contare ovviamente le reazioni elementali, sono tanta roba. Quindi, direi che ci sta. Secondo me, l'investimento di un potenziatore ci sta. Ecco, questo qui è ottimo. Il Mysticus Meccanici incrementa l'attack speed di tutte le torrette del 10%. Quindi abbiamo le torrette che sono ancora più veloci. Nel momento in cui prendiamo questo potenziamento, in realtà, potremmo anche stare fermi. Perché le nostre torrette diventeranno talmente veloci che non avremo bisogno di... Non avremo bisogno più di fare nulla. Guardate lì come non riescono a spawnare i nemici. Talmente... Talmente... Cioè, talmente sono forti le torrette vicine, che lì non possono neanche spawnare, poverini. Gli unici che potrebbero dare problemi sono questi, e quelli che troveremo alla fine. Ma quelli che troveremo alla fine tenteremo di contrastarli con la nostra Jeanne. Ecco, questi qua che corrono, per esempio, sono gli unici che effettivamente potrebbero dare problemi. Ma con l'attack speed aumentato ci siamo un pochettino parati. Quindi sono contento di aver trovato questo bonus, perché veramente l'attack speed qui è fondamentale. Soprattutto nella wave finale, dove i nemici saranno anche un po' più coriacei. Ecco, vedete, li arrivano gli ultimi. E li abbiamo fermati. Qualora, ovviamente, vi fosse scappato qualcuno. Sperate nel bonus. Siamo a posto. E qui adesso è una bella scelta. Io direi di mettere il Krio. Meccanici Elemental Mastery. Perché gli Electro, sì, sono ottimi. Però il Krio, potendo fare Melt, o comunque potendo fare Frozen, direi che forse mi conviene un po' di più. Allora, qui mettiamo un bel Hydro. Giusto per fare, ecco, vedete, magari un po' di reazioni elementali. Da quel lato spuntano i nemici, i giganti di pietra. Che non sono assolutamente un problema. Veramente, i giganti di pietra, grazie alla torretta del fuoco, come potete vedere, vengono letteralmente shottati in una maniera pazzesca. Quelli che danno preoccupazione, invece, delle volte, sono questi. Quelli di ghiaccio. Quelli di ghiaccio, con la scusa che sono forse un po' più resistenti, non ho capito bene, magari hanno forse HP. Più che resistenti, hanno forse gli HP in più. Possono dare qualche problema. Possono dare qualche problema. Ok, una volta finiti i nemici, dobbiamo occuparci soltanto di quelli di sotto. Che tra l'altro due nemici, quindi ormai abbiamo praticamente finito. Siamo stati anche abbastanza fortunati con le Wave, quindi non dovremmo avere grossi problemi. E abbiamo finito. Nessun mostro è scappato durante il processo, e anche in questo caso abbiamo utilizzato soltanto 12 torrette. Quindi, spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere come sta andando questo evento, e se vi sta piacendo. A me ogni volta piace sempre di più. Non ci posso fare niente, io sono un amante di queste robe, quindi mi piace veramente, veramente tanto. Detto questo, vi auguro buona fortuna. Spero di potervi rivedere con un prossimo video, oppure in live sul mio canale Viola, che trovate in descrizione. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, e ci becchiamo. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti